Ultime ore di campagna elettorale, poi lo stop, le 24 ore di riflessione e via alle urne. Chi sarà il prossimo sindaco di Cassino? Ma soprattutto quali sono i progetti che qualificano il loro programma elettorale? Perché dovremmo scegliere di votare un progetto piuttosto che un altro, un candidato piuttosto che un altro? Ne parliamo in questo numero, in versione elettorale, di a porte aperte. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, non hanno bisogno di presentazioni ma rapidamente vi ricordiamo quali sono le forze in campo. Diamo il benvenuto all'avvocato Giuseppe Martini, candidato dal Movimento 5 Stelle. Buonasera avvocato. Al ex presidente del Consiglio regionale del Lazio, attuale presidente del COSILAM, Mario Abruzzese, che è stato candidato allo schieramento unitario di centrodestra. Buonasera Abruzzese. Buonasera. Dal dottore Enzo Salera, che è stato in passato assessore alle finanze del Comune di Cassino, oggi candidato individuato dalle primarie, rappresenta un blocco di centrosinistra. Buonasera. Buonasera. Già due volte il sindaco di Cassino, si candida Giuseppe Golini e Petrarcone, buonasera avvocato, che si candida alla guida di uno schieramento civico eterogeneo. E con noi Renato De Santis, che è candidato da uno schieramento civico, che al centro del suo progetto ha il tema dell'acqua, acqua pubblica, ma anche di tutta una serie di servizi per la città di Cassino. Buonasera. Detto questo, ricordiamo le regole di ingaggio. Due minuti di tempo per ogni risposta. Per rendere più snello il dibattito, i candidati hanno deciso di rinunciare ai 30 secondi di replica. Si inizia a rispondere partendo dall'ordine di apparizione in lista. Le domande successive partiranno a scalare, cioè al secondo giro di domande inizia la seconda lista estratta, al terzo, la terza lista e così via. Menera tale che ognuno dei candidati avrà la possibilità di rispondere per primo e per ultimo almeno una volta. Su due argomenti sarà possibile, visto che siamo in televisione, proiettare immagini, foto a corredo dei concetti che il candidato vuole esprimere. Su uno di questi temi daremo più tempo, tre minuti a disposizione. Sceglierà il candidato su quale tema vuole avere un minuto in più a disposizione per illustrare il proprio programma. Non è ammesso il pubblico in studio, c'è solo un accompagnatore per ciascuno. Cominciamo quindi a vedere quelli che sono gli argomenti della giornata, il turismo, il commercio, Cassino, città europea attraverso questi elementi. In queste settimane di campagna elettorale i candidati hanno parlato molto di turismo e di turismo come occasione mancata, come possibilità di ulteriore sviluppo. Hanno incontrato i commercianti, le forze produttive, si sono confrontati con loro e tutti hanno detto che Cassino può diventare una città ancora più importante di oggi, puntando appunto sul turismo e commercio. Sentiamo quali sono i progetti su questo argomento, ma con ampia libertà di interpretazione. Partiamo con l'avvocato Giuseppe Martini, due minuti per lei, avvocato. Grazie direttore, prima di tutto grazie per avermi invitato in questo bello studio televisivo e di cui apprezzo il fatto che sia plastic free, che è un'attenzione che mi fa sempre piacere. Io appunto, lei mi ha presentato, io sono Giuseppe Martini e sono candidato per il Movimento 5 Stelle. La nostra lista rispetta tutti quanti i canoni del Movimento 5 Stelle. Abbiamo rispettato pedisseguamente la legge Spazzacorrotti, non abbiamo messo, diversamente dalle altre liste dei miei competitor, che sostengono i miei competitor, persone condannate. Per cui la nostra lista è una lista assolutamente pulita. Per quanto riguarda poi nello specifico della domanda, io sono stato fra i promotori, insieme a dei ragazzi fantastici di Cassino, del Monumento Naturale di Monte Cassino. Per noi il Monumento Naturale di Monte Cassino deve essere il traino per il turismo. Abbiamo tanti progetti per quanto riguarda il Monumento Naturale di Monte Cassino. In particolare vorremmo evitare che i pullman salissero sopra e quindi vorremmo prevedere, abbiamo previsto una fermata nelle immediate vicinanze della città e poi delle navette ecologiche che porterebbero i turisti a visitare il Monumento Naturale di Monte Cassino. Per quanto riguarda, sarò breve, per quanto riguarda mentre il commercio, la cosa che più riteniamo necessaria in questo momento è rivitalizzare il commercio del centro. Lo vogliamo fare prevedendo non un'isola pedonale ma una zona che può essere vissuta solo da chi ha interesse in quel momento a passare nel centro storico. È un progetto che abbiamo copiato, è stato suggerito dal sindaco Appendino di Torino che lo sta realizzando a Torino. Perfetto, quindi ci dice l'Avvocato Martini, l'elemento centrale su questo capitolo per il Movimento 5 Stelle nel suo progetto è il Monumento Naturale, no autobus sopra Monte Cassino, quelli tradizionali, ma sia navette o comunque mezzi che siano ecologici e una città che possa essere vissuta attraverso il commercio. Due minuti per Mario Abruzzese. Credo che la cosa più importante da affrontare non sia solo l'aspetto commerciale, perché il commercio nella nostra città riprende il suo percorso di fioritura economica se si costruisce intorno a questo interesse una città, una città organizzata, una città diversa, una città capace di offrire dei servizi. Quindi non si può puntare solo su uno specifico argomento, ma si deve puntare su più direttrici, tant'è che il cuore del mio progetto, del mio programma elettorale è stato definito Cassino Città Cultura. Quindi poi magari vedremo anche le slide per far capire meglio qual è il percorso che ho in mente, qual è il sogno per questa città e soprattutto la città che vorrei. Quindi un'attività che deve in qualche modo avere alcune visibilità particolari. Quindi una città organizzata cercando di far arrivare nella città di Cassino i pullman che vanno a Monte Cassino, ma soprattutto cercare di creare quella curiosità tra i visitatori di Monte Cassino e portarli nella città di Cassino, perché la città di Cassino ha due città. La città vecchia che genera turismo, che genera curiosità, che genera visitatori, tanti figli di soldati che vengono nella nostra città per visitare luoghi dove hanno combattuto i propri genitori. È una città nuova che ha due grosse periferie, Roma e Napoli, e quindi a noi il compito di organizzare la capacità di accoglienza per poter veicolare sul nostro territorio i tanti visitatori e rimettere in moto l'economia del commercio. Quindi, ci dice Maria Bruzzese, puntare su un insieme di direttrici. Il turismo ha tanti aspetti, non solo quello religioso di Monte Cassino, ma anche il turismo storico, e poi è necessario organizzare il turismo che può arrivare dalle periferie di Roma e Napoli, perché è un attimo. Enzo Salera con due minuti per lei su questo argomento. Ricordate, quando volete, ci dite poi preventivamente delle slide, così vi diamo il minuto in più. Ma guarda direttore, il problema di Cassino è che per poter riattrarre, far rivitalizzare il commercio, attrarre il turismo a Cassino, bisogna innanzitutto partire da un concetto fondamentale. Cassino, negli ultimi due anni e mezzo, tre anni, è una città completamente abbandonata a se stesso, dove il livello di degrado ha raggiunto un livello mai raggiunto negli ultimi 70 anni. Quindi, non tutto quello che si promette in campagna elettorale, innanzitutto noi dobbiamo essere seri e corretti. Dobbiamo dire ciò che vogliamo fare e con quale risorse vogliamo farlo, perché si può promettere di tutto o di più, ma poi queste rimangono delle promesse elettorali. La riqualificazione del centro è fondamentale, perché Cassino ha una situazione di degrado nelle periferie, ma io quando parlo di periferie, ho parlato molto in campagna elettorale, nelle periferie, parlo di una periferia che è a centro della città di Cassino, che è Piazza Labriola, che dovrebbe essere il cuore pulsante commerciale di attrazione per le famiglie, per i bambini, di un cuore pulsante di un centro commerciale naturale che attualmente è completamente abbandonato a se stesso. Allora, a me fa specie che si viene a parlare oggi di riqualificare il turismo senza partire da questo concetto fondamentale. Noi dobbiamo riqualificare una città per poter attrarre il turismo. Un altro aspetto molto importante, a me fa specie che si viene a parlare oggi di riqualificare, di attrarre il turismo a Cassino da chi negli ultimi due anni ha fatto sì che si applicasse a Cassino la tassa di soggiorno. È per la prima volta che accade a Cassino. Se noi chiediamo agli albergatori, guardiamo le statistiche nazionali, laddove viene applicata la tassa di soggiorno, è un grosso handicap per il turista, perché il turista che deve venire in albergo a Cassino e si sposta di 5 km, va al casello di San Vettore, 10 km, San Vettore o va a Piedimonte, a Villa Santa Lucia, e quindi perché non paga la tassa di soggiorno, a Cassino oggi, grazie all'amministrazione che è caduta di centro-destra, e grazie alla dichiarazione di sesto finanziario si paga la tassa di soggiorno. Questi aspetti non sono di poco conto per chi vuole parlare di riqualificazione della città e di attrazione turistica. Dice quindi il candidato sindaco Enzo Salera, possiamo presentare qualsiasi progetto, ma per correttezza va detto al cittadino cosa vogliamo fare, va bene, ma con quali soldi lo vogliamo fare. Denuncia il degrado di Piazza Labriola, dice che deve essere il cuore pulsante dello sviluppo della città, parla di riqualificazione e denuncia l'introduzione della tassa di soggiorno attribuendone la responsabilità all'amministrazione uscente. Due minuti su questo argomento, Giuseppe Golini Petrarcone, prego. Grazie direttore, il turismo per noi è l'asset fondamentale per la ripartenza della nostra città, una ripartenza che deve essere culturale, sociale e naturalmente economica. E noi abbiamo incentrato appunto il nostro programma elettorale proprio sul turismo e su quello che può generare la ripartenza di questa città. Gli asset sono tanti, ma quello su cui noi puntiamo appunto è quello che noi davvero abbiamo, cioè il patrimonio che è in dotazione da sempre della città di Cassino. E allora noi dobbiamo capire anche come si è svolto il turismo finora. C'è un flusso attuale che prevede la sosta a Cassino di circa tre ore, con i pullman che partono da Roma, sostano per tre ore con la visita della Bazzia di Monte Cassino e poi proseguono nel corso del pomeriggio con una breve sosta di pranzo per la località appunto Pompei che è a qualche centinaio di chilometri. E noi dobbiamo capire questo per capire come si può intervenire. Allora noi vogliamo che quelle ore, tre ore diventino sei ore. E come arrivare a questo? Con la possibilità e soprattutto la convenienza per i tour operator a rimanere nella città. E per questo abbiamo ideato questa card del turista che abbiamo ipotizzato con un costo di 15 euro e che da acquistare al centro della città e appunto dal centro della città da Piazza Miranda far partire i sei percorsi turistici che poi si irradiano nelle varie parti della città e soprattutto nei siti attualmente disgregati fra loro. Un'altra cosa su cui noi puntiamo è appunto l'assessorato al turismo, quindi un assessore al turismo che si dovrà occupare solo e esclusivamente di turismo. Di turismo. Quindi ci dice Giuseppe Colini Petrarcone Il turismo è un asset fondamentale per lo sviluppo. Oggi il turista resta più o meno tre ore prima di andare a Pompei. Bisogna raddoppiare questa presenza. In che modo? Nel programma c'è l'idea di una card per i turisti a pagamento ma dalla quale si possono però utilizzare sei percorsi turistici. Due minuti per Renato De Santis. Diciamo che io partirei da un discorso finanziario. Noi abbiamo un comune in dissesto e le ragioni del dissesto vengono da amministrazioni precedenti e non solamente l'ultima, ma anche amministrazioni precedenti all'ultima. Quindi il lavoro dell'amministrazione attuale, cioè la prossima amministrazione che andrà ad occupare i banchi del comune sarà un lavoro certosino. Detto questo, anche io sicuramente partirei da quello che è il decoro urbano perché non si può rilanciare il commercio per rilanciare la città. Bisogna rilanciare la città per rilanciare il commercio e il turismo. Il turismo non lo vedo solamente in quella fetta di turismo che è così selettiva direi anche se numerosa, che va su a Monte Cassino perché oggi c'è un turismo fatto di ciclico, un turismo fatto di persone che si informano e vogliono dei siti di andare a visitare sia dal punto di vista storico che non. Nell'ora io direi di poter fare insieme, non so se due minuti mi bastano, insieme a un discorso di isola pedonale, che naturalmente è un discorso a medio e lungo termine, un museo itinerante nella città. In che senso? Semplice e quindi anche a costo zero se vogliamo. Il museo per esempio che si trova per la via di Monte Cassino, il nome non lo so come si chiama, potrebbe essere spostato nella sua essenzialità al centro della città in una situazione di location sia senza nessuna copertura, i ceppi, i residui bellici o in una situazione in una location ben coperta andando a ristaurare la piazza Labbriola che dovrà essere veramente il centro pulsante ma dovrà avere tutte delle caratteristiche che convoglierà in quella piazza l'interesse dei giovani. Benissimo. Il museo è veramente più interessante, non solo Monte Cassino, il turismo va organizzato e lancia l'idea del museo itinerante mettendo nel centro cittadino, lungo un percorso, quelli che sono gli elementi caratteristici. Bene, in questi giorni tra i temi che abbiamo ascoltato c'è anche quello dello sport. si è messo in evidenza quanto Cassino abbia bisogno di strutture sportive perché ha squadre che competono a livello agonistico. Molte volte si è parlato della necessità di dotare Cassino di strutture turistiche adeguate ma in questi anni le varie consigliature, chi per un motivo, chi per un altro poi, non è riuscito a realizzare questo argomento. Secondo punto, quindi parte Abruzzese, conclude Martini, se qualcuno vuole le slide ha solo da dircelo, Abruzzese, due, allora a questo punto per la regia, tre minuti. Così diamo una conseguenzialità a Abruzzese. Tre minuti, allora per Abruzzese su questo tempo e con la proiezione quindi delle slide. Il tempo, tre minuti, prego, quando vuole? Beh, se partono è importante far partire le slide. Questo è il progetto che io ho in mente, io ho la mia coalizione di realizzare. Cassino Città Cultura ha ragione Enzo quando dice poi ci devono spiegare come fanno per realizzare questo straordinario progetto. Io vorrei solo così spiegare ai nostri telespettatori che ho fatto un programma e l'ho definito un programma strategico industriale perché nel mio programma ci sono tempi, copertura economica, costi per il comune, introiti per il comune. Quindi forse è l'unico programma che prevede questa indicazione. Quindi credo che dovrebbe dirlo a qualche di un altro. Anche perché so che avete fatto pure l'accesso agli atti al comune di Cassino per capire se c'erano le coperture finanziarie, quindi poi magari le tiriamo fuori se sono necessarie. Però partirei con questa breve illustrazione che ho presentato ai commercianti, ho sottoscritto un patto con loro perché se vogliamo far rivivere Cassino abbiamo bisogno di elaborare un progetto completo e quindi c'è il progetto Cassino Città Cultura che poggia su quattro gambe, su quattro bastioni che è Cassino Museo Naturale e quindi mi riferisco ovviamente a tutte le bellezze che ha la città di Cassino non ancora utilizzate al massimo e quindi poi c'è Cassino in salute che prevede la realizzazione e la valorizzazione della pista ciclabile lungo il percorso via Madonna di Loreto e qui vediamo anche lo snodo dei bus elettrici che poi aiutano a percorrere la città. E qui ovviamente c'è la Roccaiano che ho intenzione di ristrutturare, tra l'altro abbiamo avuto un altro finanziamento di 500 mila euro dal Ministero dell'Interno per darla in concessione, per celebrarci i matrimoni quindi significa creare un introito per il comune, significa anche dare la possibilità di creare altro lavoro. Qui abbiamo la piazza Labriola, l'isola pedonale che ho in mente di realizzare in questa città, togliendo l'isola pedonale dal corso della Repubblica, spostandola su questa piazza quindi con una ristrutturazione ai cui fondi vengono presi dal print. Qui abbiamo la villa comunale, anche la villa comunale ho intenzione di darla in concessione, quindi crearci un punto ristoro dentro attraverso un bando per renderla più fruibile, per renderla ancora più bella e creare di nuovo occupazione. Questa è la pista ciclabile che secondo me va data anche questa in concessione, quindi per poterla illuminare. Per ritornare sul problema dello sport, questo è il palazzetto dello sport, la mia intenzione è di fare una manifestazione di interesse per dare la possibilità ai privati di realizzare questo palazzetto attraverso ovviamente i fondi privati e di conseguenza dare la possibilità alla società di basket che l'anno scorso militava in serie A, oggi in serie B, però da quello che ho ascoltato attraverso la conferenza stampa ha voglia di ritornare in serie A, addirittura c'è un obiettivo ancora superiore che è l'A1, quindi velocemente perché qui avremo bisogno di più tempo però in linea di massima c'è un'idea della città totalmente diversa. Io vi posso dire che per fare questo progetto è a costo zero, ci vuole solo volontà, determinazione e azione vera e costante con la collaborazione di tutti i commercianti della città e degli imprenditori. Grazie Salera, due minuti per lei su questo tema e quindi sul tema dello sport. Allora Mario infatti hai detto bene noi abbiamo fatto un accesso agli atti rispetto al tuo programma dove tu hai messo fondi, stanziamenti, coperture finanziarie da parte del Comune e quindi nel momento in cui uno legge il programma va a verificare se quelle coperture ci sono. Io ho una risposta di due dirigenti che sono due pubblici ufficiali che dicono che a proposito del finanziamento per Piazza Labriola non esiste ad oggi nessuno stanziamento nei capitoli di bilancio. Ma detto questo, io non voglio alimentare una polemica, è che Mario in questi giorni che gira per i quartieri, per la città di Cassino, firma addirittura contratti che mi ricorda qualcuno. Allora al di là quei contratti possono essere firmati con una penna B, con una Mont Blanc, cioè non è il valore del contratto che si va a firmare con gli elettori, agli elettori bisogna dirgli le cose effettivamente come stanno. Una città in una situazione di sesto finanziario e Mario indica nel suo programma 350 mila euro per rifacimento di Piazza Labriola, Piazza Labriola con 350 mila euro non ci rifacciamo neanche i sottoservizi, vedere quella slide di un'opera faraonica che forse probabilmente costerà 5 milioni di euro e dire nel suo programma che quell'opera verrà realizzata con 350 mila euro che ad oggi non sono, lo stanziamento non esiste, lo certificano due dirigenti nel bilancio del comune di Cassino, significa prendere in giro i cittadini di Cassino, perché con 350 mila euro, rivediamo quella slide di Mario che faceva vedere Piazza Labriola, è una slide, un'opera da 5 milioni di euro, non vi interrompete, grazie, ecco rivediamo questa slide, cioè per fare questa piazza come dice Mario ci vogliono 5 milioni di euro per istrutturarla, lui ha messo in capitolo il bilancio 350 mila euro con fondi comuni, le dirigenti dicono che allo stato attale non risulta negli atti di bilancio uno stanziamento di 350 mila euro per Piazza Labriola, ti dirò di più Mario, il commissario prefettizio ha utilizzato 81 mila euro di questi 350 mila euro perché sono destinati alle opere di somma urgenza per rifare la centrale termica di una scuola, quindi già mancano 80 mila euro su questi fondi, non ci sono neanche i 350 mila euro, ma soprattutto quei fondi non possono essere utilizzati per la piazza perché vanno utilizzati per l'emergenza del decoro di Cassino, questi sono i fondi che possono essere utilizzati, non ci sono le coperture finanziarie. Per me potete dire quello che volete, solo un chiarimento Io ho un atto ufficiale, io ho un atto ufficiale firmato da due pubblici ufficiali, da due dirigenti, per cui non è qualcosa firmato dentro una piazza in un quartiere per i feri, non vorrei solo che si ingenerasse un dubbio, per questo ho il dovere di chiederle solo di specificare un dettaglio, quando ha detto Abruzzese va in giro, va firmando contratti, spieghiamo, non è che sta comprando un voto, ma intendeva dire che come Silvio Berlusconi firmò il contratto il patto morale con l'elettore, io mi impegno a fare questo, lei dice Abruzzese sta facendo la stessa cosa, perché poi magari riguardate la trasmissione, quindi chiariamolo questo, cioè lei contesta al suo competitor, sta firmando i contratti come Berlusconi poi possono essere fatti con inchiostro simpatico, con inchiostro vero, Bic o altre penne, però comunque di fatto lei mette in evidenza questo. Giuseppe Colini Petrarcone, a lei. Grazie, io mi limito a parlare di sport e a proposito di sport io non credo, nella mia vita amministrativa non ho mai visto un progetto a costo zero, spero di averne l'occasione, ma non ci credo, come pure non credo nei mecenati che vengono ad investire nella città di Cassino. Io credo invece che lo sport, e per chi ama lo sport come me, non può essere privatizzato, non può essere appannaggio di chi vuole solo investire. Lo sport è un veicolo di vita, è un veicolo sociale, è un mezzo per togliere persone dalla strada. Io credo invece che per quanto riguarda la città di Cassino noi dobbiamo puntare al miglioramento delle strutture esistenti, le strutture sportive esistenti. Credo anche che come abbiamo fatto per esempio per la pista di atletica nel 2013, che ha dato la possibilità di far concorrere Cassino per un evento come le universiadi italiane, dobbiamo impegnarci a migliorare l'esistente. Noi siamo invece per un villaggio dello sport, quindi miglioramento del villaggio dello sport, ma con strutture all'aperto. Siamo per il completamento e il miglioramento della pista ciclabile di via Madonna di Loreto, che è frutto della mia prima amministrazione, ma sicuramente va migliorata, come siamo per le opportunità dei finanziamenti che ci dà il CONI con l'ausilio, anche perché noi dobbiamo avere a mente che abbiamo un'università e quindi un CUS che è molto attivo. Quindi con la sinergia CUS-CONI possiamo attirare altri fondi. E poi un'ultima cosa, sulla piscina comunale purtroppo non esistente, noi siamo per l'abbattimento di quella struttura e realizzare tanti campi all'aperto, perché lo sport va fatto all'aperto. Quindi, ci dice l'avvocato Pedralcone, ricordatevi che a Cassino abbiamo fatto un'università, di quello lo facciamo attraverso una struttura che mi inventa io, cioè recuperammo la pista di atletica. Ma facciamo anche la pista ciclabile, dice però adesso la dobbiamo migliorare e come, visto che si parla di fondi da dove vengono, ci sono i fondi che sono del CONI e quelli che sono destinati al centro universitario sportivo. De Santis, due minuti sullo stesso argomento, prego. Allora, a me preme innanzitutto puntualizzare una questione, un fatto. Io sento i candidati al sindaco quando parlano del loro progetto e ci sono dei contributi che io non metto in dubbio che arriveranno, ci stanno sostanziati, ne parlano come se fossero personali quei contributi. Io presumo che quei contributi sono della città. Quindi, Maria Bruzzese se non viene eletto, quei contributi ci andrà Salera, li troverà, ci andrà De Santis, li troverà. Così come, spero, perché in altre situazioni l'abbiamo detto, quel progetto dei famosi 50 milioni di Salera ce lo farà trovare se lui non sarà il sindaco. Giusto? Meno male. Allora, partiamo, abbiamo un tesoretto e non lo sapevamo. Andiamo nel merito invece di quelle che sono le strutture sportive. Noi ne facciamo un campo di battaglia perché? Perché noi partiamo proprio dal sociale nel nostro programma. Infatti nella conferenza stampa del basket abbiamo chiesto a quella società un'unica cosa. Se mai si realizzasse con l'aiuto e l'ausilio e un progetto di finanza comune privato il palazzetto idoneo per partire di Serie A2 e Serie A, noi vogliamo una sola contropartita. Vogliamo le scuole di mini basket, come vogliamo le scuole di mini calcio. È chiaro che la nostra idea è quella di sviluppare, laddove già esiste un centro sportivo, continuare a sviluppare di impianti, ma io credo, soprattutto sempre richiamandomi al discorso finanziario del dissesto del comune, che se non si trovano delle sinergie con i privati noi non potremmo andare a realizzare né l'eventuale centro basket per attività professionistiche e né completare, perché noi ricordiamo che il cassino calcio se andasse in Serie C non può fare il campionato perché ci mancano le luci, ci manca l'illuminazione e senza quella peculiarità non viene ammessa il campionato. Quindi professionismo certamente perché dà visibilità e quindi si ricollega anche con il turismo, ma sicuramente un occhio al sociale. Benissimo, quindi De Santis ci ricorda l'economia legata allo sport, quindi lo sport dice deve essere a 360 gradi, per cui sono importanti le scuole di mini basket, il mini calcio, ma soprattutto è necessario investire sulle strutture, perché se il cassino sale di categoria guardate che ancora non è stata sostituita la Torre Faro con l'illuminazione. Due minuti su questo argomento per l'avvocato Martini, prego. Direttore, se ho sentito investimenti di milioni, soldi che girano, bilanci, palazzetti, eccetera, a costo zero, se i miei competitor avessero saputo fare i calcoli, il comune di Cassino non sarebbe stato indistesto, come lo è oggi, perché tutti i miei competitor, con esclusione di Renato De Santis, hanno gestito le casse del comune di Cassino e lo hanno portato al default. Quindi io diffiderei molto come lettore dal considerare come vere le cose che dicono a proposito degli investimenti. Per quanto riguarda lo sport, per noi Movimento 5 Stelle, lo sport è un pilastro del nostro programma. Lo sport per noi è un modo per migliorare le relazioni sociali, per migliorare la qualità della vita, per migliorare la sostenibilità ambientale. È nostra intenzione quindi creare le situazioni affinché tutti gli impianti sportivi pubblici, e non vogliamo fare impianti sportivi per privati, tutti gli impianti sportivi pubblici possano essere utilizzati da tutti i cittadini. Per cui vorremmo fare un assessorato allo sport, al benessere e alla qualità della vita. Per quanto riguarda poi l'utilizzo di questi impianti sportivi, vorremmo fare dei regolamenti, regolamenti chiari, che non hanno bisogno di interpretazione, che prendano in serie considerazioni e le procedure pubbliche per affidare gli impianti alle associazioni, i criteri di trasparenza e in particolar modo vorremmo che nel nostro regolamento degli impianti impianti siano previsti dei costi accessibili a tutti, dei costi accessibili a tutti al fine di poter praticare tutti lo sport. Poi abbiamo intenzione di fare un altro regolamento, che è un regolamento per quanto riguarda gli eventi sportivi. In particolare vorremmo fare un regolamento per gli eventi sportivi agonistici, quelli che portano flusso di turisti e commercio nella città. E poi vorremmo fare un regolamento per gli eventi sportivi non agonistici, in particolare quelli agonistici vorremmo che si svolgessero al centro della città. Quelli non agonistici vorremmo che si svolgessero nelle immediate periferie. Quindi ci dice l'Avvocato Martini, sono necessari investimenti, c'è chi ci parla di investimenti a costo zero, però dice guardate che tutti, tranne De Sanctis, hanno governato le casse di questa città, le casse oggi sono in default, quindi io da cittadino non mi fiderei molto della loro capacità di fare calcolo. Dice lo sport è al centro del nostro programma e è necessario comunque disciplinare queste attività sportive e gli eventi agonistici e non affinché l'intera città sia coinvolta. Tocchiamo un tema che è un po' a 360 gradi, insomma è talmente ampio che può essere quasi la cosiddetta domanda a piacere, la possibilità di creare lavoro a Cassino attraverso un rapporto con l'industria ma anche con un rapporto con l'università o passando attraverso la cultura, la creazione di eventi che possano in qualche modo impiegare al meglio il tempo libero perché in campagna elettorale più di qualcuno dei candidati ha detto ma noi ci stiamo perdendo la possibilità di creare economia e lavoro perché stiamo lasciando gli studenti universitari che vengono da fuori isolati e non li portiamo al centro e con la capacità allora di creare economia a tutto tondo. Parte Salera, conclude Abruzzese, quando volete le slide me lo dite. Prego Salera. Allora direttore partiamo da un concetto fondamentale, il pubblico non ha possibilità di fare investimenti questo indipendentemente dal fatto che Cassino sia in default, che Cassino sia in default è un ulteriore elemento diciamo penalizzante per l'impossibilità di fare investimenti. Allora noi per portare, per ricreare lavoro, occupazione per rivitalizzare il centro noi dobbiamo attrarre necessariamente gli investimenti privati. L'importante è come attraiamo questi investimenti privati, cioè se noi siamo in grado di mettere in campo una buona sinergia tra pubblico e privato dove tutti e due soggetti devono tutelare i propri interessi perché giustamente un privato che fa un investimento deve necessariamente avere un ritorno economico altrimenti non investe. Dall'altra parte l'amministrazione pubblica deve tutelare gli interessi del pubblico. Noi in questo abbiamo degli esempi e li abbiamo dimostrato. Mario parlava prima di riqualificare la villa comunale attraverso un bando dando la ingestione ai privati. Beh l'amministrazione che ci ha preceduto di cui faceva sicuramente era parte importante che oggi si ripropone ha provato tre volte a fare un bando e non è riuscita ad attribuire la gestione della villa comunale. Noi abbiamo fatto un esempio di sinergia pubblico privato e quello della riqualificazione del parco Baden-Powell dove trovammo un finanziamento pubblico regionale che si stava perdendo. L'abbiamo riacquisito, abbiamo riqualificato un'area degradata ma abbiamo fatto di più. Abbiamo dato in gestione ad un privato un'attività di ristorazione che oggi occupa 12 posti di lavoro. Lì c'è una perfetta sinergia tra pubblico e privato, cioè dove l'interesse del privato deve essere tutelato nel rispetto dell'interesse del privato ma nello stesso tempo deve essere tutelato l'interesse pubblico perché se tu fai tre volte un bando per gestire la villa comunale e questo bando non va a buon fine vuol dire che non hai tutelato l'interesse pubblico. Volevi forse probabilmente favorire qualcuno e quindi questa tutela dell'interesse pubblico è venuta meno. Noi dobbiamo fare questo, chi amministra deve essere responsabile nell'attrarre gli investimenti ma deve tutelare contemporaneamente l'interesse pubblico. Quindi ci dice Enzo Salera gli investimenti privati, noi dobbiamo riuscire ad attrarre i privati come? Con un'attenta sinergia pubblico privato e al privato noi lo attraiamo dandogli il suo ritorno economico e ha citato come esempio di non efficiente amministrazione quella che lo ha preceduto perché non è riuscita ad assegnare per tre volte un bando. Ha fatto come esempio invece di buona amministrazione, di best practice, una di quelle che ci sono state quando lui era il governo della città, la ristrutturazione del parco Baden-Powell con un finanziamento e ha creato 12 posti di lavoro. Stesso argomento, Giuseppe Golini Petrarcone, prego. Direttore credo di avere delle slide sull'argomento. Tre minuti per Giuseppe Golini Petrarcone su questo argomento, quando è pronto allora facciamo partire le slide così entra su questo tema. Sì, allora noi il lavoro è un concetto e un problema talmente ampio che abbraccia tutte le sfaccettature della nostra società. Noi per quanto riguarda la formazione di chi poi si approccia al lavoro noi abbiamo pensato nel nostro programma ad un progetto di avviamento al lavoro che è previsto da legislazioni e che come dovere del buon padre di famiglia deve appunto formare le persone che si approcciano al mondo del lavoro e in questo ci sarà un'interazione fra le amministrazioni, l'amministrazione comunale in primis, l'università, le scuole, le parrocchie, l'industria e tutte le attività produttive. Questo serve appunto per formare coloro che si approcciano al mondo del lavoro. Ma soprattutto noi vogliamo che questa compenetrazione soprattutto fra il mondo del lavoro e città avvenga attraverso le opportunità che si creano per appunto creare il lavoro. E allora noi abbiamo pensato alla città bella. La città bella è quella che vediamo in queste slide. La città bella è quella che abbiamo ma che dobbiamo migliorare partendo dalla villa comunale e il parco del Gari e del Rapido per poi abbracciare tutti i punti della città. Ma un qualcosa su cui noi vogliamo puntare e ripeto qui non ci sono costi è appunto questa esemplificazione. Noi vogliamo una volta per tutte che l'acqua di Cassino abbia un suo frutto per la città e per le amministrazioni. Quindi questa è naturalmente un'esemplificazione. abbiamo usato una bottiglia di un'altra casa produttrice ma questa è l'acqua che noi vogliamo imbottigliare e appunto attraverso una rete che si andrà ad instaurare andiamo a distribuire l'acqua con un ritorno abbiamo calcolato per il comune e per le casse comunali di circa 500-800 mila euro l'anno. Questo ci dà la possibilità insieme all'industria del turismo di avere un benessere, un ritorno nella nostra città ma soprattutto, e questo è importante, è il fine che vogliamo raggiungere, quello di creare nuovi posti di lavoro. Abbiamo ipotizzato che attraverso l'imbottigliamento, l'industria del turismo e del commercio con la creazione del centro commerciale naturale che si può fare e si deve fare a Cassino, con la Cassino Bella, noi possiamo ricavare 500 posti di lavoro nei prossimi due anni. 500 posti di lavoro in questo settore, quindi turismo, rigenerazione urbana, attività produttive, quindi strutture... Posso offrire l'acqua San Germano ai miei... Ci sta la plastica. Abbiamo fatto tanto per essere plastic free e adesso a questo punto a questo punto corriamo il rischio. Però potrebbe proporre di fare le bottiglie in vetro più più. Però faremo anche le bottiglie in vetro. Visto che siamo in una fase progettuale, progettuale, cogliamo l'idea, ci contaminiamo dell'idea del plastic free e possiamo pensare di farle in vetro. Raggiungeremo anche il plastic free. Bene, grazie. Allora, De Santis, due minuti. Sì, io quando ero ragazzo giocavo a calcio ed ero difensore. Degli Astis come mi ha fatto adesso Peppino non me ne hanno fatti mai. L'acqua, l'acqua. Peppi, quando io prima dicevo ai microfoni spenti che dobbiamo essere seri, cioè tu per fare l'imbottigliamento oggi devi chiedere l'autorizzazione alla CEA, che te la fa pagare pure. Aspetta, scusa, ma i tuoi tre minuti li hai spesi, scusami un attimo. 1996, tu hai firmato per la gestione del servizio idrico al privato. Assolutamente no, non ho firmato niente. Vabbè, meno male che io vengo preparato. Io vengo preparato. Perché io ho detto così, noi abbiamo due punti etici nel nostro programma. Dire quello che possiamo dimostrare e non chiedere il voto al singolo. Quindi lei sostiene che nel 1996, l'allora sindaco... Certo, la convenzione di cooperazione tra i sindaci, che non è niente altro che l'istituzione del lato 5, al punto 13, se non sbaglio, della Costituzione, c'è la scelta del gestore. Ed è stata scelta, eccola qui. Anzi, lo legga lei così è imparziale. Cioè, la storia è storia, ragazzi. Eccola qui. Leggo articolo 13. In armonia con la legge numero 142 del 1990, per la gestione dei servizi idrici integrati, si adotta la seguente forma. Concessione a terzi di quell'articolo 22, lettera B, della legge 142 del 1990. Che corrisponde ai briganti? Se vuole la legge lato. Devo fare una sintesi, fermiamo un attimo. Non c'è la mia firma, chiaramente. Come non c'è la tua firma? È il sindaco che ha firmato, eh? 96. Perché sennò a casa si perdono. Praticamente... No, no, vorrei vedere la firma. Ci sono raccolte firme. Ah, ecco, ecco. Allora, te la mando stasera. No, ma non ci può essere, la firma non ha firmato nulla. De Santis, però, per andare a sintesi, momento soltanto, perché sennò a casa si perdono. Che cosa ci ha voluto dire in questo momento De Santis? Ci ha voluto dire, guardate, che quando è stata fatta la legge, cioè o meglio, quando la provincia di Frosinone, i sindaci della provincia di Frosinone, hanno dovuto, in ossequio alla legge, stabilire se la gestione dell'acqua dovesse andare al privato o in una gestione mista, come è stata fatta in provincia di Latina, cioè mettendosi in società pubblico-privato, venne deciso di adottare la concessione a terzi e contesta a Giuseppe Colini Petrarcone di avere firmato a favore della concessione a terzi. I rappresentanti nel lato sono i sindaci, Peppi, vuoi confutare la storia? I rappresentanti nel lato sono i sindaci. Vabbè, come andiamo avanti? Quindi non sono solo io, sono i sindaci. No, no, io sono i sindaci, sì, tu hai firmato per Cassino, mica prima degli altri. No, io non ho firmato, te lo voglio dire così che capisci anche. Comunque andiamo in lavoro, in lavoro, diceva. Non ho firmato, ma deve essere brevissimo, brevissimo. Stiamo sforando il lato, dieci secondi, veloce, veloce, veloce. Allora noi abbiamo in mente, per il lavoro, anche se naturalmente non è che va a sanare quello che è il problema del lavoro, due cose importanti. Una, molti servizi per il comune, che l'amico Salere ci diceva giustamente che in fase di sesso non la potevamo fare, però io mi sono scartabellato qualche cosa, caro Enzo, e con capitale autonomo, rinunciando alla indennità per un certo periodo degli amministratori, si può costituire questa società. Questo è uno. E l'altro? E l'altro le cooperative dove il comune può dare gratuitamente i terreni, cooperative agricole, che se non diventano commerciali, diventano almeno come orti cittadini. Perfetto, e questo è il suo progetto. Avvocato Martini, prego, a lei. Direttore, io volevo parlare del nostro programma per quanto riguarda il lavoro, però devo dire che l'occasione è veramente ghiotta per mandare in onda il mio filmato. Prego, allora tre minuti per l'Avvocato Martini. Sì, è veramente ghiotta questa occasione e poi magari ci ritorno sul programma. Così, allora, prepariamo il video che ci è stato portato, gli diamo tre minuti per commentarlo, che così lo stanno caricando in questo momento, ci parla sopra, a commento lo usiamo come tappetino. Io per la verità era un video, vediamo queste immagini, è un video che, questo sono io chiaramente. La riconosciamo? La riconosciamo, questo per chi non l'avesse capito, sono del Movimento 5 Stelle e invito tutti a votare sul Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda le nostre battaglie, noi diciamo di stare molto attenti al voto. De Santis per l'Arcone, questi sono certificati penali, per l'Arcone sindaco di nuovo, Salera sindaco, hanno nelle liste persone condannate. Noi vogliamo il Parlamento pulito, ma anche il Comune pulito. Per quanto riguarda il nostro, vabbè, ora chiaramente questo è il nostro concetto di città, ma una città intelligente, una città smart, ma poi ne avremo modo di parlare successivamente. Ma voglio arrivare all'ultimo passaggio di questo video, che è quello appunto dell'acqua pubblica. Direttore, l'unico modo in Italia per tornare, a mio giudizio, per tornare a una gestione pubblica dell'acqua, è quello di sostenere il Movimento 5 Stelle e in particolare la legge d'Aga, che è stata presentata nel 2018 ed è attualmente ferma in Parlamento, perché ci sono resistenze da parte del PD, da parte della Lega e da parte di Forza Italia. Per quanto riguarda, dobbiamo essere più precisi, perché non è corretto accusare Peppino Perarcone di quel fatto lì. Quel fatto lì fu un fatto politico. Nel 1996 fu una richiesta dell'allora, io non so, comunque del centro-sinistra, di privatizzare l'acqua. In provincia di Frosinone c'era Scalia e quella fu tutta un'operazione fatta dal centro-sinistra. Per cui centro-sinistra che oggi è rappresentato da Enzo Salera, per cui io penso che a meno che lui non vuole uscire dal suo partito, difficilmente potrà, come dire, sostenere in Parlamento l'acqua pubblica. Questo è per quanto riguarda, non so se sono stato chiaro, mi accusano di parlare, mi accusano di parlare, mi accusano di parlare, quindi spero di essere stato chiaro. Per quanto riguarda l'acqua pubblica, invito tutti i cittadini a diffidare, da chiunque vuole risolvere il problema acqua pubblica, facendo azioni giudiziarie, manifestazioni, l'acqua pubblica si risolve solo in Parlamento e nel Parlamento italiano. Bene, volevo aggiungere qualche cosa in materia di lavoro, Avvocato? Quante domande abbiamo ancora? Beh, oramai ci siamo, siccome ci siamo allargati un po'. Al prossimo giuro vi parlo. Allora, benissimo. Mario Abruzzese, mi mancava lei per completare questo tema. Prima di rispondere alla sua domanda, volevo precisare bene, diciamo, i fondi per Piazza Labriola. Ha ragione Salera quando dice che i dirigenti hanno risposto che nel bilancio non trovano la copertura, ma è chiaro, è normalissimo, perché questa copertura, io l'ho detto nel mio programma elettorale, che forse lui è distratto e non ha letto, questi fondi noi li destiniamo, ovviamente una volta eletto, prendendoli dal print, dal contratto che noi abbiamo sottoscritto, che il Comune ha sottoscritto, con la società che sta realizzando i fabbricati diciamo nel piano di riqualificazione urbana. Lei sa meglio di me che in questo, diciamo, contratto sono previsti 280 mila euro per un intervento, un contributo straordinario, più 680 mila euro per quanto riguarda i costi di costruzione e quindi se è il Sindaco che poi andrà a destinare questo tipo di finanziamento. È normale che oggi non ci sia, ma diciamo questo ha portato gli atti per far capire dove noi prendiamo queste risorse. Come pure, diciamo, le altre risorse che sono state indicate nel programma di riferimento elettorale che mi appartiene, quindi se volete poi le tiro fuori, tiro fuori anche le coperture finanziarie per quanto riguarda le scuole, però lui non l'ha detto questo perché pensava di non trovare le coperture finanziarie e quindi ci è rimasto un po' male perché andando in Comune, lui faceva il consigliere comunale e non si è neanche reso conto che quella è una programmazione del 2017 che io allora consigliere regionale ho curato a livello di regioni, a livello di ministero dell'interno. Però detto questo è chiaro che l'obiettivo primario è il lavoro, ma il progetto di città che io ho in mente, che cerco di proporre, di esporre ai cittadini, non so se l'hai notato, io non critico mai gli altri perché poi alla fine ognuno si assume delle responsabilità anche perché io sono convinto che i cittadini siano persone intelligenti, quindi sanno dove trovano la verità e dove trovano la bugia, questo è fuori discussione e quando parlo di idea di città è un'idea complessiva, oggi ho sottoscritto il patto con gli imprenditori perché se vogliamo noi trovare, creare e costruire lavoro bisogna lavorare su più segmenti economici. Ma quando firmo i patti significa che mi assumo una responsabilità diretta, politica, voglio dire io oggi ci ho messo la faccia di fronte a 30 imprenditori e ho detto loro guardate che il mio impegno per questa zona industriale è questo, questo e quest'altro e voglio dire è un impegno che io assumo con voi direttamente parlando con loro, si fa così, chiarissimo, devo chiamare la pubblicità, non vi muovete un minuto e torniamo con gli altri temi e gli altri giri di domande, un minuto di pubblicità. Seconda parte di A porte aperte, stiamo parlando di elezioni comunali a Cassino, rapidamente altro argomento, altro giro di risposte, uno dei temi che è stato particolarmente ostico per l'amministrazione uscente è stata la rigenerazione urbana, cioè una norma regionale che diceva guardate se avete delle periferie o delle zone della città che comunque hanno bisogno di essere rimesse a nuovo perché rivitalizzano un quartiere e quindi evitano il degrado, rigenerano in qualche modo non solo urbanisticamente ma anche la vita di questa zona della città bene sappiate che avete una serie di agevolazioni, una serie di deroghe rispetto a quelle che sono le norme urbanistiche e a Cassino questo piano di rigenerazione urbana poi alla fine non è stato ancora definito. Quali sono i progetti che hanno i vari candidati in che modo vorrebbero ridisegnare la città utilizzando la rigenerazione urbana? Comincia Giuseppe Colini Petralcone. Sì direttore, noi abbiamo in animo e abbiamo preso l'impegno di approvare in uno dei primi consigli comunali utili appunto la legge regionale sulla rigenerazione urbana che è stato oggetto di traversia nella passata amministrazione. Una legge che poi dà la possibilità di accedere anche a fondi per la rigenerazione urbana. Naturalmente la rigenerazione urbana dà la possibilità a coloro che vogliono investire, privati, di abbellire la nostra città. E allora la connessione, la stretta connessione che c'è fra appunto questo strumento legislativo e quello che noi vogliamo realizzare in città, cioè la Cassino Bella. Noi abbiamo individuato un quadrilatero che è quello appunto che parte dalla villa comunale con l'esorgente di Algari e che prosegue per tutto il territorio fino al Sant'Angelo con la creazione una volta per tutte del parco del Gari, quindi tutto il tratto fluviale che sarà percorribile e pedonabile. Questo quadrilatero continua con il parco Baden-Powell che è stato è stato rivisitato e rivitalizzato nella mia amministrazione, prosegue ancora con la piazza San Giovanni, anche questa rifatta nella mia amministrazione e si chiude con la piazza Labriola che noi vogliamo rifare, vogliamo renderla il cuore della città, il vero Smart City che sono fondi che sono accreditati, andrebbero e andranno accreditati a chi ha una visione generale della città e del suo sviluppo, quindi non può essere un progetto a sé stante, deve essere un progetto che riguarda tutto il tessuto del territorio. Naturalmente dalla rigenerazione urbana avranno benefici incontestabili anche le periferie che noi vogliamo rivitalizzare. Grazie De Santis sullo stesso argomento. Però mi permette due precisazioni che sono d'obbligo, uno l'avvocato Martini diceva che nelle liste ci sono dei condannati, non riguarda sicuramente la nostra lista, quindi si riferiva ad altre persone. Due, non è vero neanche quello che ha affermato che attraverso solamente una legge si potrebbe andare sulla gestione dell'acqua pubblica, io apprezzo molto la legge Daga, la sto seguendo, come ha detto l'avvocato c'ha molti intoppi e quindi praticamente la stiamo seguendo. Però c'è un'altra strada perché laddove questa legge per motivi diversi non possa essere approvata c'è la convenzione di utenza che riguarda tutti gli ato, io mi riferisco al lato 5, provincia di Frosinone, dove all'articolo 35 c'è l'articolo del recesso che è un recesso unilaterale dove il gestore non si può manco opporre, punto, questa era una precisazione. Per quanto riguarda invece la legge 7 del 2017, la legislazione urbana, secondo me la passata amministrazione ha perso un'occasione perché io la reputo molto importante sotto tutti i punti di vista, profilo economico, profilo ecosostenibile, premialità per i proprietari che presenteranno le progettualità o gli imprenditori, quindi potrebbe dare un impulso veramente a tutta la città. Anche per noi sarà sicuramente una delle prime cose che andremo a provare. Non c'è da fare una scelta, la legge già di per sé è organizzata, quindi la legge 7 del 2017 dovrà essere approvata così come la regione l'ha improntata. Nelle domande ci sarà un studio per vedere se rispettano tutti i canoni della legge. Tutto qui. Benissimo, grazie. Avvocato Martini, due minuti per lei su questo argomento della rigenerazione urbana. Prego. Guarda Renato, nella tua lista c'è un condannato. Così c'è, eccola qua, il certificato, a meno che non è un errore nel certificato, ecco il certificato. Però non voglio entrare, però voglio andare avanti, voglio andare avanti perché tanto c'è un'elezione trasparente, tutti quanti possono, così come nella lista di Peppino, nella lista di Sandro Salere, nella lista di Abruzzini. Per quanto riguarda, no parliamo, ognuno parla di quello che vuole parlare. La condanna è una cosa, la condanna è una cosa oggettiva. Non mi risulta. Vabbè, inviti i cittadini ad andare a vedere la lista. Se no non poteva essere messa. Guarda, basta andare sul sito del Comune, elezioni trasparente e ci sono tutti i certificati. Perché la legge spazza corrotti che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo voluto. Abbiamo voluto. Non è che impedisce a chi è condannato di candidarsi, però suggerisce agli elettori di stare attenti per chi votare, perché non vorremmo che mettere i dravola nell'emoteca comunale. Sì, ma la montagna per guida senza patente non mi sembra che sia... Guida senza patente, non mi pare, guida senza patente, non mi pare. No, lo so, sto ipotizzando. Ah, ecco. Eh no, ipotizzando. No, lo so. Guarda, più palli e peggio è perché, voglio dire, ci sono le carte. Quindi, anche perché... Inquadrala, inquadrala. No, no, non inquadro niente, non inquadro niente. Si tratta di dati personali, ma vattene a vedere. Prego signori, perché il tempo scorre. Allora, per quanto riguarda il lavoro, io mi sono perso una domanda, mi pare, no? Quella precedente, perché mi sono messo a parlare con le mie slide, che non sono slide, e mi sono perso una domanda, quella sul lavoro. Allora, direttore, il mondo corre molto velocemente, molto velocemente. I lavori cambiano molto velocemente. Oggi il mercato di lavoro richiede figure professionali diverse rispetto a quelle di una volta. Richiede figure professionali che siano consulenti di app, facilitatori digitali, progettisti di web. Noi, nel nostro programma, vorremmo ricreare... Prego, prego. Vorremmo ricreare la città, ripensare la città anche in funzione di questi tipi di lavoro. Vorremmo appunto creare una città intelligente. Per creare questa città intelligente, una smart city si dice, per creare questa città intelligente, il primo atto che vogliamo fare è quello di creare una sinergia fra una rete, una regia, fra il Comune di Cassino e la nostra università. Il Comune di Cassino e la nostra università avranno il compito di progettare, perché noi per 3-4 anni non potremmo fare nulla, di riprogettare la città, di farla cominciare a diventare intelligente appunto. Quindi in maniera smart e creando le condizioni affinché nascano questi posti di lavoro. Abruzzese, due minuti per l'ora. La rigenerazione urbana io ritengo che sia un punto importante, credo che tutti i candidati, chiunque sarà eletto, dovrà porre tantissima attenzione, perché questa legge fu approvata due anni fa in Consiglio regionale, a cui ho lavorato anche con grande attenzione, ho dato il mio contributo per approvarla. Nel programma elettorale è il mio primo punto e quindi è stata indicata come priorità, tant'è che io prevedo che entro il 30 settembre 2019 approveremo questa delibera, perché questa delibera permetterà ovviamente di derogare alcuni punti importanti del piano regolatore, delle norme tecniche attuative, quindi sarà possibile lavorare sul cambio di destinazione d'uso, sarà possibile di velocizzare le varianti che prima ovviamente si impiegavano 4-5 anni per ottenerla da Regione, oggi con 30 giorni riesci ad approvarle immediatamente, la demolizione, ricostruzione, riampliamenti, quindi significa rimettere in moto un'economia che noi riteniamo indispensabile e prioritaria, perché quando si parla di economia, quando si parla di lavoro, credo che l'economia dell'edilizia rappresenti il punto nevralgico dell'economia generale, perché con l'edilizia si sviluppano una serie di attività importanti, lavorano le imprese, i professionisti, i commercianti, quindi è un'attività che noi riteniamo prioritaria. Insieme a questo ovviamente bisogna inserirci una serie di interventi importanti, che sono quegli interventi che noi definiamo ovviamente come progetto prioritario che è Cassino Città Cultura, in cui si inseriscono una serie di interventi capaci di creare un'economia importante, l'economia circolare, insieme ovviamente ad un'economia che si inserisce in un contesto di apea, che sono le attività produttive ecologicamente attrezzate per poter dare maggiori opportunità agli investitori e agli imprenditori, perché ci sono dei finanziamenti particolari finalizzati all'economia circolare. Grazie Salera su questo argomento, voleva i tre minuti qui, voleva le slide? No, voglio rispondere alla rigenerazione urbana e i tre minuti li prendiamo dopo, io voglio parlare di rigenerazione urbana, però voglio fare una precisazione come l'ha fatta De Santis a proposito dell'Avvocato Martini, che parla che il centro-sinistra all'epoca del 96, il PD ha regalato l'acqua pubblica, io voglio ricordare all'Avvocato Martini che fa il duro e puro dei 5 Stelle, che nel 2011 lui era candidato a Consiglio Comunale nella coalizione con il PD, Cioè nella coalizione di centro-sinistra che sosteneva il candidato sindaco di centro-sinistra insieme al PD. Detto questo parliamo di rigenerazione urbana, la rigenerazione urbana è una cosa estremamente importante, voglio ricordare a Mario, ma non è perché ce l'ho con Mario, però la legge sulla rigenerazione urbana, quella regionale, fu approvata entro il 31 luglio 2017, i comuni entro il 31 luglio 2018 dovevano approvarla, recepire questa norma, perché la norma sulla rigenerazione urbana è importante per riqualificare le zone, e qui mi dispiace con Peppino, non può riguardare il centro, ma le zone soprattutto degradate, le periferie, il concetto delle famose finestre rotte di un sociologo americano, quindi la rigenerazione urbana riguarda soprattutto le periferie, non ci sono edifici in centro che hanno bisogno di riqualificazione urbana. Quella delibera, l'amministrazione che fa riferimento oggi a Mario Abruzzese, ha tentato di portarla in Consiglio Comunale ben quattro volte, e oggi mi dispiace che lui cita una data che è il 30 settembre 2019, perché se andiamo a rivedere i giornali dell'epoca, la data del 30 settembre 2018 la citava l'assessore, l'allora assessore all'urbanistica, che questa delibera doveva arrivare in Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2018, avremmo dovuto approvarla entro il 31 luglio, non ci sono riusciti, non è arrivata né il 30 settembre 2018, né arrivata il 31 dicembre 2018, né arrivata poi al cadere dell'amministrazione, perché? Perché quella delibera non veniva recepita così come era l'indirizzo della Regione Lazio, si voleva fare qualcosa che noi abbiamo bloccato sui cambi di destinazione d'uso, che non può essere recepita secondo il concetto di cambi di destinazione d'uso nelle aree artigianali e farle diventare edifici pubblici, perché poi è accaduto qualcosa a Cassino, ed è legata alla delibera della Regione Lazio Urbana, un fatto molto grave, da Cassino è stato trasferito l'Inps dal centro di Cassino fuori Cassino a Panorama, creando grandi disagi per la cittadinanza e soprattutto creando grandi disagi a quei poveri, soprattutto persone anziane che senza collegamento devono trasferirsi dal centro di Cassino a fuori quasi ad arrivare a Panorama senza una strada di collegamento, senza un marciapiede, senza adeguati collegamenti pubblici, quindi la rigenerazione urbana va applicata secondo come previsto dalla legge regionale, non con l'intento anche qui di dover favorire qualcuno. Grazie, un momento soltanto avvocato, per i non addetti ai lavori, il candidato Enzo Salera ci parla di cambio di destinazione d'uso, affinché sia comprensibile a tutti, non posso prendere casa mia e trasformarla in un ufficio pubblico o in una scuola, ogni edificio è destinato a una certa cosa, perché questo? Per anche delle norme di edilizia, una scuola deve avere un carico statico, deve poter reggere un carico molto molto più grande di quello di una casa, in una casa quante persone ci possono entrare? In un'aula di una scuola, in quello stesso numero di metri quadrati ce ne entrano di più, quindi ogni edificio ha una destinazione. Ecco, cambio di destinazione d'uso significava questo, cioè tu non puoi prendere un edificio e cambiargli la destinazione come vuoi, ma c'è un iter e ci deve essere anche una volontà politica e amministrativa ben precisa. Andiamo, doveva puntualizzare qualcosa Avvocato? Sono stato chiamato in causa. Rapidamente? Rapidamente, allora prima di tutto non capisco perché uno che si candida nel PD debba essere trattato in questa maniera, ma a prescindere da questo io non mi sono mai candidato nel PD, mi sono candidato in una lista civica, come ho dichiarato nel mio curriculum. Sosteneva, di questa coalizione faceva parte il PD? Non lo so, non lo so, io non lo ricordo. Non ricordo che c'è il PD, ma a prescindere da questo, piuttosto, è certo. Signori, devo andare a sostegno, se no non ce la faccio con i tempi. Piuttosto qui c'è un certificato penale della lista Salera, un altro condannato nella lista Salera. Cioè, la candidata della coalizione, è certo, ma la replica però, la replica. No, ma io non capisco perché tu attribuisci un senso negativo a chi si candida col PD. No, io non ho senso negativo, lo so io. Per il momento che io non mi sono candidato nel PD. No, io ho detto che il PD sta facendo istruzionismo nell'acqua pubblica, ed è una verità. Allora, per riassumere il concetto... E che è una verità, nel 1996, se no... Sto dicendo, io non sto dicendo... Ma qual è il problema? Signori, se no adesso usciamo dal seminato, però per chi avesse perso il passaggio precedente... Signori... Ma perché chi si candida ha la brutta figura che si chiama... Signori, vi prego, allora, per chi avesse perso il passaggio precedente, prova a fare la sintesi. Ha detto prima Enzo Salera, ma insomma, l'avvocato Martini, anni addietro, è stato candidato in una lista civica all'interno di uno schieramento nel quale c'era anche il PD. Dice l'avvocato Martini, io non ricordo queste circostanze, anche se fosse, non è assolutamente un'accezione negativa quella comunque di far parte del PD o di avere sostenuto il PD. Ho rappresentato, sintetizzato bene... Ma nessuno ha detto questo, però direi... Ma certo, ma come... Lui ha attaccato media... Beh, signori, andiamo all'ultimo giro rapidamente perché deve cominciare De Sanctis, la sicurezza. Altro tema che ha caratterizzato il dibattito politico negli anni precedenti di questa consigliatura uscente è il tema sulla sicurezza urbana, quindi le telecamere, la polizia locale e tutta una serie di argomenti che danno tranquillità al cittadino. De Sanctis, prego. Potrei far partire... I tre minuti per lei, allora, i tre minuti e il video, le schermate che ha portato. Prego. Posso? Prego. Allora, approfitto appunto di questi tre minuti perché voglio fare un quadro un po' generale da dove parte il nostro programma. Noi abbiamo volutamente trascurato un po' quelle che sono queste rappresentazioni di opere faraoniche di celluloide, direi quasi, inesistenti, ma siamo partiti secondo me da un concetto che sono le fondamenta di una società. Cioè abbiamo messo al centro dei nostri ragionamenti la famiglia e le persone. E siamo partiti proprio dalle persone e le famiglie che in questo momento sono quelle più in difficoltà. Abbiamo fatto un discorso di equità che non è, come molti credono, un discorso di eguaglianza. L'equità è un'altra cosa. Nello specifico noi vorremmo dare maggiore attenzione a chi è più in difficoltà. quindi valutare gli interventi a seconda di una scaletta sociale. Quindi chi ha più bisogno dovrà avere più attenzione sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo sociale. Partendo da questo discorso noi abbiamo pensato di non lasciare nessuna persona indietro, nessuna famiglia indietro e quindi abbiamo messo nel nostro programma l'inclusione. Inclusione significa anche per quelli meno fortunati che soffrono di una qualche malattia invalidante per esempio. E qua mi ricollego un po' al discorso della domanda principale che era la sicurezza. Perché sicurezza è anche trovare canali, passaggi per la strada per queste persone che vanno in giro con la carrozzina e devono fare tipo go-kart attraverso i tavolini o le sedie. Il tutto va ricollegato ad un principio che i miei competitor hanno sfiorato, nessuno ha sfiorato neanche minimamente perché forse fa perdere voti e forse è controtendenza. Io ho detto che i diritti li conosciamo un po' più tutti quanti, ma i doveri non li conosce nessuno e la cittadinanza è chiamata anche ad obbedire ai propri doveri. Deve capire che la libertà ha delle palizzate, la libertà non è infinita, la libertà finisce laddove si fa invasione di campo nei confronti della libertà dell'altra persona perché se no si diventano soprusi a quel punto. Quindi in sintesi noi cerchiamo nell'amministrazione di avere un'amministrazione partecipata. Andremo a individuare i rappresentanti di quartiere, li faremo partecipare ma non a chiacchiere, effettivamente a quelle che è l'attività amministrativa. Dovranno essere propositivi nelle assemblee, nel consiglio comunale. e tutto questo deve creare una società solidaristica da cui partire e fare un progetto di città con un po' le cose che abbiamo detto, riprendendo la pulizia della città, riprendendo gli investimenti, riprendendo... se non partiamo da qui non arriviamo in nessun posto. Grazie. Prego. Avvocato Martini, prego. Allora, per quanto riguarda la sicurezza, noi stiamo rinserendo nel... lo sai, il governo sta facendo alle scuole elementari l'educazione civica. Allora, per quanto riguarda la sicurezza, noi vogliamo che la città sia chiaramente sicura. Per quanto riguarda in particolare, pensiamo che le telecamere siano un ottimo mezzo per controllarla. Il primo passo, sempre noi non abbiamo mai amministrato, né io sono mai stato rappresentante di qualsiasi consigliatura politica o di qualsiasi organismo politico. non ho mai ricoperto nessun ruolo politico, ho fatto solo movimentismo, ho tutelato i cittadini contro la Tarsu, quindi questo è il mio impegno politico, impegno civico. Però, ritornando al problema della sicurezza, noi vorremmo installare delle telecamere per monitorare il traffico che entra al centro cittadino. Perché vorremmo che il centro cittadino diventi non un'isola pedonale, però diventi una zona frequentata solamente da coloro che la vogliono utilizzare. Quindi non vogliamo più che continui ad essere una specie di tangenziale che viene percorsa dalle macchine che da una parte all'altra della città la percorrono per poi arrivare fuori città. Vogliamo che il centro cittadino sia frequentato dalle macchine, da quelle che vogliono fare acquisti, che possono entrare, che però devono parcheggiare. Quindi queste telecamere dovrebbero avere il compito di monitorare il tempo che una macchina trascorre nel centro cittadino, in maniera tale da evitare che il centro diventi una zona inquinata dalle polveri sottili e che venga utilizzato da tutti quanti, insieme alle piste ciclabili. Grazie, Mario Abruzzese, per lei su questo argomento. La sicurezza rappresenta comunque un grande fattore di sviluppo perché una città sicura significa trasmettere soprattutto all'esterno la tranquillità di poter venire ad investire ma soprattutto rappresenta la tranquillità per i nostri giovani e per le nostre famiglie. Abbiamo il Comune di Cassino, come giustamente diceva Renato, i soldi non sono dei singoli candidati ma sono dell'ente comune. Il Comune di Cassino ha in dotazione un finanziamento di 800 mila euro circa quindi chiunque vincerà potrà sicuramente proporre il proprio progetto in me stende utilizzando questi fondi approvati direttamente dalla Regione. Io ho intenzione di ampliare ovviamente con questo finanziamento la videosorveglianza perché ritengo che sia un elemento importante, deterrente soprattutto per gli spacciatori di droga perché in questa città c'è un abuso elevato del consumo della droga lo vediamo soprattutto con gli arresti che avvengono quotidianamente ma l'obiettivo primario è quello di creare una grande sinergia con le forze dell'ordine con le forze di sicurezza, con le forze di polizia perché non possiamo pensare che la sicurezza sia solo delle forze di polizia anche le istituzioni hanno il dovere di lavorare e coordinare i lavori insieme a loro attraverso il tavolo permanente per la sicurezza pubblica quindi nel programma ho anche inserito il censimento degli immigrati e degli immigrati abusivi e irregolari che devono ritornare al proprio paese come ho anche inserito la lotta alla prostituzione lei sa che il sindaco ha il potere con un'ordinanza di poter lavorare su questo particolare segmento che riguarda la sicurezza e quindi credo che nel prossimo futuro ma soprattutto con la mia elezione metterò in campo questi atteggiamenti e questi provvedimenti per cercare di risolvere questo problema che sta in qualche mondo danneggiando i nostri giovani e le nostre famiglie grazie Salera a questo punto lei è l'unico che è rimasto senza i tre minuti immagino che li voglia giocare adesso allora i tre minuti per il candidato Enzo Salera prego sì io voglio due slide per i miei tre minuti non voglio presentare progetti faraonici cose realizzabili abbiamo fatto durante la campagna elettorale noi abbiamo ascoltato molto i cittadini abbiamo ascoltato quali sono le emergenze e la priorità per la città di Cassino ci sono due slide che sono emblematiche del nostro intervento che ci sarà come amministrazione la prima slide riguarda i lavori dell'ampliamento del cimitero che è un problema drammatico che sta coinvolgendo i cittadini di Cassino questo lo possiamo collegare se vogliamo in un concetto più ampio di sicurezza perché la slide del cimitero? perché l'ampliamento del cimitero partito dall'amministrazione di Alessandro a fine 2017 che devono essere consegnati i loculi entro il 31 luglio 2017 hanno impiegato otto mesi per fare una gara una gara poco trasparente che ha portato a questo risultato a sequestro del cantiere perché a seguito di un nostro esposto una richiesta al sindaco di verificare l'esecuzione dei lavori c'è stato un intervento del genio civile della Procura della Repubblica e ieri abbiamo appreso da uno scoop di sciocciaria oggi c'è un intervento della Procura regionale della Corte dei Conti perché che cosa si è scoperto? che si metteva meno ferro e meno cemento nella realizzazione di quell'opera ora diceva giustamente Mario che i finanziamenti che ci sono a Cassino non sono di Mario Abruzzese, di Enzo Salera o di Renato De Santi sono dei finanziamenti del Ministero mi riferisco a quelli delle scuole i 4 milioni di euro, 5 milioni di euro che tu hai messo nel programma che sono dei finanziamenti che spettano a qualsiasi sindaco sarà chiunque sarà sindaco della città di Cassino però se vogliamo fare un paragone io sono preoccupato da chi gestirà quei fondi perché se si gestiscono i fondi per la realizzazione delle scuole così come sono stati gestiti quelli per la realizzazione del cimitero dove si è realizzato un cimitero con meno ferro e meno cemento immaginiamoci se noi gestiamo quei fondi per costruire una scuola dove ci saranno i nostri figli, i nostri nipoti adottando quel criterio quel criterio di mettere meno ferro e meno cemento nella realizzazione della scuola quindi la sicurezza, noi dobbiamo parlarne a 360 gradi della sicurezza dobbiamo scegliere chi va ad amministrare questa città sulla base di una cultura di governo che è diversa da chi ha una cultura di governo nell'utilizzare meno ferro e meno cemento nel cimitero e meno ferro e meno cemento nella realizzazione delle scuole l'altra slide era per lo sviluppo della città noi abbiamo ripotizzato di riqualificare un rettangolo di asfalto che è a Campo Miranda attraverso la creazione del nuovo mercato coperto di Cassino dove non vogliamo mettere solo automobili non vogliamo mettere solo asfalto cioè non va a portare tanto verde e ridare una risorsa alla città di Cassino che era il mercato coperto che era un'area di attrazione anche quella di investimenti, di creazione di posti di lavoro perché è un'area che veniva a qualificare anche i prodotti tipici locali e quindi riqualificare anche altri settori dell'economia locale questo è un esempio della nostra città del futuro che vogliamo fare con la compartecipazione dei privati con quella giusta sinergia di cui parlavamo all'inizio tra pubblico e privato Grazie, completa il giro Giuseppe Colini Petrarcone Prego Grazie direttore intanto voglio tranquillizzare i miei elettori che i 144 candidati miei hanno dei certificati penali illibati come il mio che fa politica appunto il mio certificato penale di chi fa politica da tanti anni 26 anni, 35 anni di professione e non sono mai incappato in guai giudiziari credo che anche questo sia importante per quanto riguarda poi la sicurezza credo che si debba fare qualche passo indietro qualche passo indietro e risalire al 2012 scusate però se devo parlare con il disturbo del brusio non interrompiamo per cortesia prego siccome siamo stati chiamati in ballo volevo almeno replicare comunque dicevo che per quanto riguarda la sicurezza dobbiamo fare un passo indietro al 2012 quando la città di Cassino non me ne voglio prendere i meriti solo io riuscì a salvare il nostro tribunale dalla soppressione ormai decretata dal primo decreto severino ci fu una sollevazione popolare mi ricordo ci fu una task force di lì ringrazio veramente tutte le forze politiche che sostennero quella battaglia questo per dire che se noi avessimo perso il tribunale sicuramente avremmo perso quel baluardo di giustizia e di sicurezza che oggi abbiamo addirittura abbiamo incrementato quel bisogno di sicurezza e di giustizia e quella risposta alla sicurezza e alla giustizia appunto con l'incremento anche della parte geografica del sud pontino detto questo noi dobbiamo però pensare un po' più in grande devo avere qualche minuto quindi mi conforta a proposito del tribunale l'intervento del del presidente della corte d'appello di qualche giorno fa di due giorni fa che in visita a Cassino ha praticamente annunciato un aumento dell'organico sia del personale dei collaboratori di giustizia che del appunto dei magistrati e poi città bella e anche città sicura e noi la città sicura la immaginiamo anche con una tecnologia quella del 5G che è la nuova tecnologia che entrerà in funzione nel secondo semestre del 2020 che ci darà la possibilità a costi sicuramente assolutamente minori di quelli dei finanziamenti che sono stati detti per rendere Cassino sicura con un sistema di videosorveglianza all'avanguardia migliori risoluzioni migliori capacità e migliori velocità di intervento un'ultima cosa ovviamente l'aumento dell'organico della pulizia locale il PEBA il piano di eliminazione delle barriere architettoniche e città bella è anche una città che non è degradata purtroppo il centro ancora ha delle parti degradate su cui anche con la rigenerazione urbana è possibile intervenire benissimo abbiamo completato il giro un minuto per ciascuno per l'appello finale al voto avvocato Martini un minuto per lei grazie io invito i cittadini di Cassino a votare per il Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle ha presentato una lista un programma un candidato a sindaco il programma è chiaro è realizzabile nella lista del Movimento 5 Stelle non ci sono condannati diversamente da quello che è successo in alcune liste che sostengono i miei competitor per cui il 26 maggio vi prego se volete cambiare Cassino non date la fiducia a chi ci ha già amministrato e ha portato al distesso il Paese votate Movimento 5 Stelle grazie un minuto a disposizione per l'appello finale al voto di Mario Abruzzese grazie sì chiedo il voto perché ho elaborato un programma che secondo me è un programma diciamo realizzabile ma soprattutto per il lavoro che ho svolto in questa campagna elettorale ho girato in lungo e largo per la città di Cassino per le periferie quindi ho assunto degli impegni pubblici con loro sottoscrivendo il famoso patto per le periferie perché credo che le periferie hanno un ruolo determinante per la città di Cassino ed il centro cittadino chiedo il voto perché ho preso un impegno pubblico con i commercianti e gli imprenditori per ridare impulso alla città di Cassino per ridare il ruolo politico alla città di Cassino un ruolo politico più importante per rimettere Cassino al centro di un dibattito politico regionale e nazionale per questo chiedo un consenso vero e forte grazie un minuto per Enzo Salera allora io chiedo il voto per la città di Cassino perché per la prima volta a Cassino si presenta una coalizione che l'abbiamo definita compatta unita e pulita una coalizione che porta con sé tanto entusiasmo porta le competenze per amministrare la città di Cassino ma soprattutto una coalizione che dal giorno dopo può amministrare serenamente la città di Cassino noi non abbiamo all'interno della nostra coalizione candidati che hanno posizioni politiche interessi contrapposti che sicuramente determineranno una cattiva amministrazione nel nostro caso noi abbiamo degli amministratori esperti che hanno competenze abbinati ad amministratori invece che vengono dal mondo del sociale a candidati che si candidano per la prima volta abbiamo la volontà e la grande determinazione di amministrare Cassino in una maniera diversa rompendo gli schemi del passato rompendo gli schemi di chi ha l'interesse ad amministrare Cassino solo per occupare delle poltrone il 26 maggio per cambiare Cassino vota Enzo Salera grazie un minuto a disposizione per Giuseppe Colini Petrarcone io chiedo il voto perché amo Cassino perché non ho padroni perché ho un programma bello e sostenibile perché nella mia amministrazione ultima abbiamo fatto ripartire la città abbiamo evitato il dissesto ho amministrato come il buon padre di famiglia fino all'ultimo giorno e questo lo avevo fatto anche nel mio precedente mandato guardate amministrare e gestire delle risorse umane non è cosa scontata e io sia nel 93-97 che nel 2011-2016 ho amministrato fino all'ultimo giorno senza ricevere delle critiche certamente critiche costruttive quelle le accettiamo ma soprattutto non sono stato mai sfiduciato e ho portato la città a rialzare la testa e ad essere al centro anche dell'attenzione nazionale ed internazionale grazie un minuto di appello al voto per Renato De Sanctis io invece non chiedo il voto io chiedo che gli elettori facciano le dovute considerazioni in funzione di quello che hanno ascoltato quindi se credono credibili i progetti che sono stati messi in campo se credono soprattutto che le persone che le hanno presentate sono persone credibili se sono persone che già hanno amministrato e hanno fallito perché abbiamo il comune in dissesto ed anche rispetto a quello che è la rappresentazione del nostro programma che come dicevo prima mette al centro la persona e non le opere faraoniche il nostro programma attende sicuramente al miglioramento socio-economico di tutti i cittadini e soprattutto è importante perché ogni cittadino si dovrà sentire partecipe di una comunità grazie grazie a lei grazie a voi soprattutto perché questo confronto come poche altre volte ha messo in evidenza quelle che sono le posizioni e le peculiarità di ognuno vi ricordo come prevede la legge si vota solo in una giornata quella del 26 di maggio i candidati che avete visto sono candidati al consiglio comunale di Cassino e solo chi vota per le comunali di Cassino può esprimere un voto in loro favore si può votare un solo candidato sindaco si possono votare due candidati al consiglio comunale uno o al massimo due se se ne votano due devono essere di genere diverso quindi un uomo e una donna non si possono votare due uomini o due donne a Cassino essendo una città con più di 15.000 abitanti è possibile il voto disgiunto e cioè votare il sindaco di uno schieramento e il candidato consigliere di un altro schieramento per poter essere eletti al primo turno è necessario che uno dei candidati ottenga almeno il 50% dei voti si vota vi ricordo solo in una giornata quella del 26 Teleuniverso sarà in diretta dalla sera per lo spoglio delle europee e il giorno dopo minuto per minuto sezione per sezione per raccontarvi le comunali in tutto il Lazio e il centro Italia grazie ai nostri ospiti in bocca al lupo a tutti quanti arrivederci grazie grazie a tutti